Guido Bonoldi, medico internista, già primario ospedaliero, attualmente in pensione ma superattivo all'interno della SST Sette Laghi, dove sta portando avanti un bel progetto coordinato dal professor Francesco Dentali per aiutare i giovani medici a fare che cosa? Ce lo spieghi Dottor Bonoldi. Certo, per svolgere un compito di chiuto, di formatore nel campo dell'ecografia point of care, cioè l'ecografia fatta al letto del paziente in ambulatorio o nel reparto di esigenza da parte del clinico, in questo caso da parte di otto giovani medici assunti che lavorano all'interno della medicina di questo ospedale e che devono fare un percorso di 64 ore ciascuno di attività pratica di ecografia con la mia presenta, il mio tutoraggio.